Solitamente i post scrittium, i PS, si fanno alla fine di una lettera, no? Io li faccio ora all'inizio. Asterisco questi componenti, li vedete, si chiamano terminali. Questo componente si chiama cavo 70 mm quadrati di rame. Quando una cosa si scioglie, si dice derretido. Ascoltate bene. A me è sembrato che sia all'inizio che alla fine questi componenti sono rimasti gli stessi. Quindi non era sottodimensionato l'impianto, solo semplicemente uno stacca batteria che può essere stato difettoso. Ah, e aggiungo stacca batterie, entrata, uscita. Se lo stacca batterie si danneggia e quindi non si ha al momento uno stacca batterie da sostituirle e si vuole fare un collegamento diretto, fare un bypass, ascoltate, questi due vengono messi così, si mette un bolloncino in mezzo con un dadino e si nastra la parte del terminale per non fare contatti. Però se si osservano certi dettagli si può notare sia all'inizio che nell'utilizzo poi e quando alla fine vengono messi nuovi, che se fate attenzione sono rimasti collegati normalmente, non è stato bypassato niente. Open the Ace. E dopo Open the Ace, se si lavora con prodotti ottimi in quanto Victron, se ci sono dei falsi contatti o quant'altro, oltre a tutte le sicurezze di vari fusibili e protezioni che ci sono, gli apparati Victron rilevando tensioni corrente sbagliate vanno in protezione, prevenendo incendi che potrebbero crearsi se ci fossero dei problemi. Quindi andare a rischiare di andare a fuoco, esplodere, saltare in aria ce ne vuole, perché tutto va prima in protezione. Buona visione del video. Buonasera a tutti ragazzi, come avrete potuto notare dalla miniatura, dal titolo, avete già capito di cosa si andrà a parlare in questo video. Quello che vi chiedo è gentilmente di guardare bene il video, ascoltare bene il video e dopo commentare. Qualsiasi cosa volete commentare lo potete fare. Che siate idraulici, che siate panettieri, che siate pizzaioli, che siate personal trainer, fitness, che siate youtuber. Chiunque può commentare, non c'è nessun problema. Io posso anche avvicinarmi e non si vede nessuno... si vede della cattiveria negli occhi del sangue che mi riesce dagli occhi. No, non si vede. Che però me ne batto bellissi. Vabbè ragazzuoli, banda le ciance, andiamo a parlare di una cosa seria. Una cosa seria perché ce n'è da parlare volendo di questo discorso. Io non sono né il maestro mago merlino né il mago della fatina, io sono semplicemente angelo di casa su quattro ruote. Punto a capo. Come ho detto prima, di cosa parleremo nel video, l'avete capito dalla miniatura e dal titolo, andremo a parlare di staccabatterie. Chi sono? Cosa sono? Perché ci sono? A cosa servono? A cosa non servono? Tra l'altro, aperta piccola parentesi, oggi mi ha contattato una persona che ha fatto fare un impianto in un centro specializzato e si ritrova con l'impianto senza fusibili, senza staccabatterie. Anzi, no no, c'ha gli staccabatterie, non hai i fusibili, ma quando stacca gli staccabatterie rimane tutto alimentato il camper e non capiscono il perché. Vabbè, quello è un altro discorso. Chiusa parentesi, andiamo avanti con gli staccabatterie che sono fondamentalissimi! Punto primo, su un'impianto a litio gli staccabatterie possono anche non essere montati in quanto un'impianto a litio che abbia BMS interni o BMS esterni e Battery Manager System, che sarebbe la centralina che gestisce la batteria. Ripeto, potrebbe anche non montarsi perché? Perché il BMS, tante batterie, hanno un interruttore che si possono accendere e spegnere, quindi già da lì si spegne la batteria, o addirittura se è una batteria a litio con Bluetooth, tramite Bluetooth possiamo andare a spegnere solo la carica, solo la scarica o entrambe. Qual è il vantaggio di mettere uno staccabatterie? Che è manuale, che in caso di emergenza sicuramente è più veloce andare lì con la manina a girare uno staccabatterie, che entrare dentro la app o andare dalla batteria e cercare il bottoncino e in caso di panico potrebbe essere più lunga la cosa, quindi più comodo avere uno staccabatterie. Diciamo a portata di mano il più possibile, sganci e via. Altrimenti se non avete lo staccabatterie vi potete portare sempre questo, è un ottimo amico del fuoco. Ciao amico mio, sempre utile averli in camper ragazzi, estintora. Piccoli, grandi, medi, quello che siano, l'importante soprattutto se abbiamo degli impianti a litio che siano con le caratteristiche apposite per poter spegnere un impianto a litio. Anche se montando batterie litio ferrofosfato non è il caso perché non si incendiano, potrebbero solo emanare del fumo, potete cercare in rete i video, non lo dico io, lo dice la chimica e la scienza. A differenza di LTO, altre tipologie di batterie a litio a sacchetto tipo quelle dei telefoni che sono molto a rischio di esplosione, barra che si possano incendiare molto facilmente. Possiamo vedere quello che ci dicono anche svariati telegiornali o che si vedono nei svariati gruppi social. Scusi, come fa lei a sapere tutte queste cose? A fare il pallettiere? Ti hanno insegnato a fare tutte queste cose? Uh, che mago che sei! No, io ho fatto dei corsi a pagamento gratuiti per sapere queste cose, me li hanno insegnati chi ne sa più di me. Ah, degli insegnanti allora ti hanno insegnato. Si trovano corsi gratuiti su online che spiegano logicamente, come posso spiegare io questo video, che è un video che si trova online gratuito. Poi chi vuole sapere logicamente come si costruiscono determinati componenti, come si usano correnti, come si deve dimensionare un impianto e tutto il resto, ci sono corsi a pagamento che te lo esegui da professionisti e quindi paghi X, fare un corso certificato, ecco, cioè nel senso che è molto più valido di quello gratuito che puoi trovare, che ti dà delle nozioni che potete trovare chiunque, Google, come fare impianti elettrici, come fare quanti assorbimenti, eh, trovate di tutto. Poi sta a voi sapere se quello che leggete o ascoltate sia vero o meno. Questa era una piccola parentesi del ascoltate, vedete, chi ha il cervello lo usa e capisce di cosa sto cercando di comunicare. Quindi, tornando seri, perché la cosa è serissima, non seria, gli stacca batteria, come dicevo, sono utili in caso di emergenza, uno sgancia e toglie corrente all'impianto. Calcolando sempre che utilizzando componenti di un certo marchio che voi tutti sapete, anche quelli che io utilizzo, che si vedono ovunque, che è Victron Energy, secondo me è non il top di più, visto anche i DC-DC da 50A che ho già ricevuto, penso di essere stato uno dei primi in Italia ad averli in mano e montati già e testati. Non so come mai. Né per vantarmi né per niente, altri li hanno ricevuti anche in Italia, ma chi me li ha consegnati, cioè non il corriere, ma chi me li ha procurati, rivenditore Victron, ufficiale Italia, non faccio pubblicità e nomi a nessuno perché non mi interessano, non ho nessun asconto nel senso, quindi va bene così. Magari in futuro si vedrà se nascerà qualcosa, ma prima bisogna sedersi a un tavolino per dire determinate cose. E lui stesso, quando mi sono stati consegnati, io poi sapete come sono, il giocattolino nuovo del bambino, ho smontato subito casa su quattro ruote e ho fatto subito i test, li ho montati al volo e ho visto il valore del prodotto, come sempre top, ci mancherebbe, e ho contattato il fornitore dicendogli guarda che prodotti non ottimi, di più come sempre, ma si sapeva di Victron, e lui mi ha detto guarda, non ho fatto tempo neanche ad aprire la scatola che tu l'hai già montati, vabbè. Comunque è stato come sempre gentilissimo, gli ha fatto super piacere che l'ho testato, vabbè. che neanche altri installatori d'Italia gli hanno magari mandato un video immediatamente o una recensione del prodotto, ma magari li mettono lì, quando li monteranno glielo diranno. Ecco, io invece sono più frenetico in queste cose. Tornando all'istacca batterie, scusate se mi dilungo un pochettino, ma voglio spiegare bene tutto, che capiate il concetto del tutto. L'istacca batterie, che ora vi faccio vedere un attimino di quale stiamo parlando il modello che l'avete già visto, sia montato sul mio camper e su altri, lo trovate, ora vi faccio vedere una pagina di Amazon, ve lo faccio vedere, lo stacca batterie, noi non facciamo vedere altro. Non ridere tu da dietro le quinte! Non ridere da dietro le quinte! Potrei iniziare, magari faccio i soldi. Vedo o non vedo? Vedo o non vedo? Torniamo seri. Questo è lo stacca batterie che parlavo in questione. Come possiamo vedere, 12, 24V, 200A, 1000A. Sinceramente, ora non ricordo se era il 200, il 250 o il 270, perché c'è diversi modelli. Io ne ho preso uno per farvi vedere l'immagine e farvi capire di chi e che cosa stiamo parlando. Ok? Questo, mettiamo caso che era da 200A, il più piccolo. 12V, 200A, perché se andiamo a 24V, come altri modelli che si possono trovare, vediamo un attimino, non so se si vede già qualcosa qua, che dice tipo 12, 500, poi vabbè, bisogna vedere tutto il metallo vicino a cose di legno, cose di faro, dei sedili, vabbè, questi sono altri discorsi. Parliamo di questo. Questo è uno stacca batterie. Partiamo dal presupposto, come in migliaia di persone hanno già detto, fatto e scritto, che uno che ha un impianto di un certo maniera, in primis, sarebbe corretto sapere tanto così. Avere almeno un tester, vabbè. e comunque è giusto ogni tanto magari fare un check-up del tutto, soprattutto quando si girano più officine che paesaggi, quindi voglio dire, è giusto fare dei check-up. Io personalmente, e parlo, e qui ci metto la faccia, perché io ci metto la faccia a dire le cose, nel mio impianto, che lo conoscete, ora un po' in disordine, perché sono sempre a far modifiche, fare, quattro anni, quattro anni ormai sono, che ho l'impianta litio fatta e finito, nonostante aggiungo modifico, tolgo smonto e rimonto, quindi non tutti i bulloni, li stacca batterie, non ho mai controllato i bulloni, cioè li ho controllati una volta per controllo, non c'è mai stato un bullone smollo, perché era tutto perfetto. Eh, ma perché sono i tuoi. Perché sono i miei, sono più belli. Sono i magici. C'hanno la magia, mago murli. Tornando al fatto, della questione che stiamo parlando, che è seria. Sostituendo quei si stacca batterie, perché il coperchio è leggermente, cioè vai a dei piccoli segnetti, ma ci può stare, perché con carichi pesanti, si scaldano, è normale, le correnti sono forti in questione. Calcolando che potrebbe essere stato un prodotto difettoso, io non sono dentro al prodotto, quindi anche a me è capitato un DC DC della Victron difettoso, l'ho montato, non funzionava. E cosa ci faccio? Io non sono dentro. Cambiati in garanzia, nessun problema, perché era immediato. Dopo due anni, non è che puoi dirgli, si è rotto, si è rotto, che faceva? Stacca batterie, si è rotto. Dopo due anni? Vabbè, e con uso gravoso, potrebbe aver ceduto, perché non perfettamente, conforme con la qualità del prodotto, come doveva essere. Virgola. Senta perché... Si può andare a fuoco? Sì, quando tutto è sottodimensionato, ma visto e calcolando, stiamo parlando di uno stacca batterie, dove erano due stacca batterie montate, da 200 ampere l'uno. Le batterie... Erano da 250, perché è stato detto che erano da 250. Sì, da 250, perché ora ho questo qua davanti, quindi leggo 200, mi viene a dire 200. Allora, stiamo parlando di due batterie, che possono far fuoriuscire 250 ampere cada una. Quindi, facciamo così, perché almeno, se qualcuno che non intende tanto, almeno così, potrebbe essere un po' più... Si riesce a capire. Si riesce a capire un po' meglio. Dimmi se si nota da lì, se si vede... Sì. Ok. Allora, calcolando che noi abbiamo due batterie che possono far fuoriuscire 250 ampere l'una, quindi 500 ampere tutte e due assieme. Con due stacca batterie da 250 ampere l'uno, possono uscire 500 ampere assieme. Quindi, gli stacca batterie verrebbero utilizzati al massimo del loro regime. Calcolando che ci sono dei range dove le case madri mai ti fanno usare al limite le cose. Nel senso, se loro ti dicono che è studiato per 250 ampere, ci sono delle tolleranze superiori dove, anche se tu lo porti sempre a 250, lui regge. Logicamente, se lo porti a 250, per 24 ore, 7 su 7, 18 mila giorni, cederà prima o poi anche lui, è normale. Ma, non è questo il problema. Il problema qual è? Che 500 ampere non potranno mai essere tirati fuori. Perché? Perché noi abbiamo in questione un inverter Victron 12.3 mila wattora che equivalgono a 2400 watt di potenza erogata massima continua. Ha dei picchi da 6 mila, sì, ma per 5 secondi poi va in blocco. Se volete vi faccio un video e ve lo dimostro perché io ho lo stesso inverter. 2400 watt di picco che si possono tirare fuori dall'inverter Victron 12.3000 equivalgono esattamente 2400 watt erogati dall'inverter continui continui equivalgono esattamente a 2400 watt ora facciamo i conti della serva per farvi capire a quelli che non sono del mestiere non sanno e non capiscono. 2400 wattora lo dividiamo per 12.8 che è una tensione nominale che abbiamo delle batterie 187,5 ampere ha messo e concesso che una delle due batterie è scarica quindi ne stiamo utilizzando solo una quindi una è spenta mettiamo che l'abbiamo messa anche in off dallo stacco a batterie stiamo prelevando 187 ampere in una batteria con uno stacco a batterie da 250 ampere ovvero siamo 390 60 ampere sotto il limite massimo che può consentire lo stacco a batterie ma visto e calcolato che in questione non c'è una batteria scollegata ma vanno tutte e due le batterie sempre e comunque i 187 ampere virgola 5 vengono divisi per due pacchi batterie ovvero noi stiamo andando a prelevare 93 virgola 75 ampere ogni batteria e vi dirò di più 93 ampere virgola 75 stiamo parlando di 9 18 27 facciamo i conti dalla serva per fare prima stiamo parlando di un terzo della capacità dello stacco a batterie che puoi erogare punto primo quando invece io ho ascoltato in una lingua spagnola gli otto anni che vivo in spagna quindi lo capisco abbastanza bene abbastanza qualcosina però non sono ancora professore di spagnolo presto diventerò professore torniamo seri o anche inglese professore di oxford buongiorno buongiorno arriviamo a 110 ampere sempre meno della metà di quello che 110 120 quello che vogliate 125 alla metà di quello che lo stacco a batterie può erogare se noi questa corrente la tiriamo fuori a mezzogiorno con il sole calcolando che se non ricordo male parliamo di un kilowatt di pannelli circa in pieno rendimento perché poi se siamo vicino all'equatore tipo isole canarie un kilowatt di pannelli col tempo bello che c'è lì diciamo che a mezzogiorno in ora di punta visto che era anche stato detto pochi video prima poco prima poco prima era stato detto che bello batterie piene usiamo forno tutto usiamo induzione usiamo quello non entriamo in merito ma com'è che abbiamo superati abbiamo superati io come lo shot che ho fatto io i 93 ampere ogni stacco a batterie scendono perché perché i pannelli ci stanno generando facciamo una cifra tonda 50 ampere che vengono distribuiti nelle due batterie ma se noi siamo in assorbimento i 93 ampere li tiriamo via ancora 25 facciamo meno 25 ampere stiamo andando a tirare via 68 ampere ogni pacco batteria quello stack a batteria è lì è lì così ho la minigna mi colgo la plaita mi pongo una cervecita mi bevo una cervecita che è una birretta per chi non sa lo spagnolo e mi pongo a ser la tintarella di luna tintarella con latte ragazzi siamo seri torniamo seri ci sta un po' di battutine questo è per farvi capire che bisogna usare il cervello quando si fanno le cose ma prima di usare il cervello per fare determinati lavori perché uno che usa uno che lavora e usa il cervello sappiamo già cosa sta facendo ma il problema più grande ad oggi in questi anni in questi periodi soprattutto storici il problema è che la gente questa qua la fa ballare troppo e senza sapere soprattutto e io non discrimino nessun professionista nessun professionale perché chiunque chi fa qualcosa se io sto tutto il giorno nella mia mansardina a dormire è normale che non sbaglio mai se io sto tutto il giorno così non potrò mai sbagliare potrò solo sbagliare se mentre torno indietro mi inciampo esposto dalla sabbia ma uno che esegue dei lavori qualsiasi anche cambiarsi la propria lampadina e sbaglia rompe il lampadario è normale è normale ma anche chi sta in ufficio che si dice ah tu stai in ufficio non sbagli no perché quello fa un lavoro che potrebbe sbagliare quindi ragazzi detto questo non dileguiamoci in altre cose perché non è il caso che comunque aperta parentesi tu non hai sbagliato chiusa parentesi continua pure il discorso no ma io infatti sono a posto con la mia coscienza cioè nel senso nel senso che hai spiegato il lavoro di questi staccabatterie ma è stato detto che erano sottodimensionati che non è la verità sì sì perché alla fine il problema era che degli staccabatterie erano sottodimensionati no perché come vi ho detto prima l'inverter più di quello non può erogare e aggiungiamoci anche all'uso della 12 volt non arriviamo neanche alla metà di quello che è stato studiato lo staccabatterie poi può essere stato difettoso e anziché durare dieci anni durato due tre quello che è sì però anche le gomme possiamo andare a mettere le gomme nuove dal gommista e buchi cos'è colpa delle gomme nuove che si sono bucate cioè ora per dire non è una o esplode la gomma perché è difettosa facciamo causa a Pirelli Ancook Michelin è fallata che ci fai anche di fabbrica quante volte i mezzi la Ford questo qua è stato richiamato per la trasmissione alcuni modelli per la catena o altri modelli di tipo il daily mi sembra è stato richiamato per i fusibili dell'aria condizionata che si incendiavano se però uno anche non compra io questo mezzo non l'ho comprato nuovo vedo un Ford Transit usciamo un attimo dal binario nel senso io Ford Transit non l'ho comprato nuovo l'ho preso usato l'ho preso subito in quel bip la catena di distribuzione si è rotta io sono andato in Ford perché mi sono documentato alcuni modelli avevano avuto il richiamo questo non usciva ma questo è uscito con il richiamo della trasmissione infatti in garanzia gli hanno cambiato tutta la trasmissione posteriore e risulta su tutte le Ford europee perché io l'ho comprato in Spagna in Canaria il camper arrivava dalla Francia risultava in Canaria che in Ford era stato sostituito a tutta la trasmissione completa in garanzia quindi la legge non ammette ignoranza ma se tu compri un mezzo devi essere consapevole e documentarti se quel mezzo può aver avuto problemi quindi se tu lo compri documentati Google anziché usare le dittine le testerine per determinate cose fai ricerche cerchi ti 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 ok Iveco Daily Ford Ducato che problemi hanno avuto hanno avuto richiami oh cavolo hanno avuto quello chiamiamo un attimino vediamo se questo rientrava nella campagna di richiamo e se rientrava è stato fatto è stato fatto il richiamo no ok interveniamo prima di chiusa parentesi ragazzi con questo video aspettate che dietro le quinte vogliono aggiungere qualcosa si aperta parentesi con te parentesi apri aperta parentesi tonda quadro graffa qui non è che mi piace molto sentire queste cose noi le tasse le paghiamo e come a voglia ve lo garantiamo non devo dimostrare niente a nessuno ma lo stato lo dimostra chiusa parentesi quindi ragazzi soprattutto a chi è diretto interessato se vedi questo video ma a tutti voi vi mando un bacio una carezza e al prossimo video ciao a tutti